Per non commuovermi, per favore, per farlo forte, per farlo forte, abbiamo fatto. Mi aspettavo qualche cosina in via, allora il 77esimo convegno e incontro non sono neanche dei comizi, sono arrivato, siamo partiti e abbiamo fatto tutta l'Italia, 12 mila chilometri ed è successo, è successo piano piano, è già successo, siamo entrati in un'altra fase, un'altra fase che non so come sarà, ma è un'altra fase, è incredibile, è incredibile come anch'io sono cambiato, sono cambiato io, siamo cambiati noi, siamo cambiati invece di un movimento, siamo un non so che cosa, un'associazione a denticure, no, siamo diventati in una comunità, ma veramente uno fa una cosa, c'è un camper pieno di roba, di cibi, di formaggi, di prodotti.